Ti credevo, ma non così tanto, credevo a poter andare bene, ma forse così bene no. Quando vinci ti adorano un po' tutti, poi quando vai male te ne sono molti di meno. È una cosa brutta a livello umano, però alla fine è così che vanno le cose. Lui è un mio amico e nel nostro sport penso che sia il riferimento, secondo me è il numero uno e due. È chiaro che al titolo ci si pensa, perché comunque dopo le prime vegate un po' difficili con due veri, adesso ho preso un bel ruolino di marcia, ho recuperato molte, quindi io ci penso. Però è chiaro che secondo me bisogna pensare più gara per gara adesso, perché è stata ancora lunga e dopo alla fine di ogni gara guardi come sei messo, però bisogna prendere il massimo in ogni gara secondo me. Ma ci sarai aspettato obiettivamente una stagione così? Guarda, io mi aspettavo di riuscire ad andare molto forte, perché alla fine dell'anno scorso, diciamo, io ero molto veloce e per un motivo o per l'altro non sono mai riuscito a raccogliere magari anche un po' di l'anno scorso, che però secondo me era la portata alla fine. Io speravo che l'Aprilia mi desse era molto titale alla fine dell'anno scorso, invece non me l'hanno data e quindi io comunque so creduto che questa cosa mi ha dato anche molta motivazione. Quindi la motivazione è di dimostrare alla figlia e di farci sbagliare, i tifosi, i giornalisti tutti ti adorano? Diciamo che sì, poi quando vinci ti adorano un po' tutti, poi quando vai male te ne sono molti di meno. Sì, che se ne fregano. Sì, per non dire a nessuno e questa non è una cosa, cioè è una cosa un po' brutta a livello umano, però alla fine è così che vanno le cose. È un pass club ufficiale? No, no. Il pass club sarebbe anche carino da fare, però secondo me bisogna trovare delle persone giuste perché è una cosa comunque da fare in modo serio e quindi non deve essere campata per aria e se si fa bisogna farla bene. I capelli avevi detto che se li fai crescere fino a fine campionata, mi avevo detto qualcosa. No, i capelli diciamo che mi sono fatti crescere questo inverno e alla fine erano diventati un po' troppo ingestibili e li ho dovuti spultare, infatti. Ma direi che a mettere i capellini del disposto? No, ma infatti sono dei seri problemi quando vado sul podio. Secondo me non ho fatto una gran figura con quel capellino. Sì, ma poi c'è vero ragazzi, la tua mascotte e la porta del Lira? Ma mascotte, lei diciamo che alle gare non l'avevo mai portata, magari veniva una o due gare in una. E anche mia mamma. Dopo quest'anno sono venute, diciamo dopo le prime due gare sfortunate, sono venute al Vestoril, lì ho fatto la pole e il podio e allora ho detto adesso bisogna portarle sempre. E hai l'amorosa, vieni alle gare? Sì, ho l'amorosa, da un anno e mezzo. Ho detto ma quest'anno è venuta al Mugello e ho vinto. Allora ho detto adesso vieni anche a Barcellona e ho vinto anche lì. Tra un po' ci sarà il derby per il titolo mondiale, il derby diciamo orizzonese tra te spagini. Spero di vincerlo io. Siamo molto diversi, però ci vogliamo comunque bene perché correvamo, io correvo nella squadra nel team di Subabbo, con il minimo che fa Subabbo, quindi noi ci conosciamo da un sacco di anni. Per lei e con Valentino Rossi? Sì, andiamo nella stessa palestra a Pedro perché ci fa la preparazione dello stesso ragazzo, si chiama Carlo. E poi ci alleniamo spesso anche con le moto da cross insieme, andiamo a girare. Ti ha dato qualche consiglio? Ma guarda, consigli ogni tanto se ho bisogno li richiede, lui me li dà sempre, io ne faccio tesoro. I tuoi detrattori dicono che lo vuoi un po' imitare? Sì, un po' mi dà fastidio perché non è vero, solo perché abbiamo i capelli uguali o parliamo simile, ma magari caratterialmente siamo anche un po' simili perché comunque andiamo d'accordo. Ed è chiaro che se posso imparare qualcosa da lui lo imparo, però lui è un mio amico, andiamo d'accordo e se siamo simili non è di sicuro perché lo voglio, lo voglio imitare. E quindi poi io alla fine so che lui è un mio amico e nel nostro sport penso che sia il riferimento, quindi è chiaro che uno a livello di risultati così lo voglia imitare, secondo me il numero uno è lui. Grazie.